piccolo benvenuti sul canale le news che vuoi tu piccolo aggiornamento per quanto riguarda il caso un marco carta arrestato è stato portato in tribunale insieme ad una donna di 53 anni perché accusato di aver rubato delle magliette dal valore di 1200 euro marco insieme alla donna di 53 anni è stato assolto però è stato rinviato a giudizio per il processo che si terrà a settembre perché deve spiegare bene la sua posizione hanno trovato nella borsa della signora di 53 anni il cacciavite usato per togliere l'antiteccaggio e le magliette quindi marco si dichiara estranei fatti ma se è stato assolto sia lui che la signora la domanda sorge chi è che ha rubato a questa domanda marco preferisce non rispondere cosa ne pensate fatemelo sapere giù nei commenti se il video vi è piaciuto lasciatemi un like di supporto noi ci vediamo con le prossime news